42 bengalesi, siriani ed egiziani e tunesini sono stati rintracciati dai caraviglieri durante la notte a Calapalme di Lampedusa, dove sono riusciti ad approdare autonomamente con un barchino di 7 metri. Allo spot di Contrada Embriacola al momento sono presenti 685 ospiti. Sono 258 migranti sbarcati durante la notte a Lampedusa, dove le motovedette di Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza, ma anche l'ONG Aurora e la nave 18 hanno soccorso 4 imbarcazioni, 2 barconi salpati da Zawia in Libia con a bordo 116 e 118 migranti, intercettati poi altri 2 barchini con 9 e 15 tra tunisini, siriani e senegalesi. I 15 hanno riferito di essere partiti da Mahdia in Tunisia. Tutti, dopo un primo triage sanitario effettuato al molo Favaloro, sono stati trasferiti allo spot di Contrada Embriacola.